È figlia del pittore Mario Bardi e sorella del chitarrista Lucio Bardi. La sua carriera come cantante inizia a Milano negli anni settanta. È la voce femminile nell'album Volo Magico N. 1 di Claudio Rocchi. La collaborazione con Rocchi continua in altri quattro album della produzione del cantautore. Collabora con artisti come Nino Tristano. Suonate suonatori, album phonit eccetera, Alberto Camerini e Eugenio Finardi. Con i quali forma il gruppo musicale dei Pacco insieme a musicisti come il fratello Lucio Bardi, Walter Calloni e Lucio Fabri. Con questo gruppo partecipa alla festa del proletariato giovanile del Parco Lambro dal 13 giugno. Al 16 giugno 1974, tra il 1976 ed il 1978 collabora anche con Demetrio Stratos e Paolo Tofani degli Area. Nel 1974 incide per la Electra Records il suo album Apuddara e un vulcano. Con il fratello Lucio alla chitarra, Pepe Gagliardi alle tastiere, Paolo Donnarumma al basso ed Antonello Vitale alla batteria. In parallelo inizia anche la sua carriera di attrice. Partecipando a Montepulciano al primo festival internazionale di teatro con la compagnia di Memè, Perlini, nel 1991 entra nel gruppo musicale Ensemble. Con i quali pubblica l'album Motish Con, il cui titolo in Arbe Resh, albanese del 1400, significa il tempo passa. Donatella Bardi scompare prematuramente nel 1999 a 45 anni per un'emorragia cerebrale.